Il nostro lavoro qual è ragazzi? Allora abbiamo fatto una storia che vede il protagonista, un gabbiano e un pescatore. La storia si chiama Salvatore il pescatore e incomincia che c'è questo gabbiano che si chiama Giano che svolazza allegramente sul mare quando a un certo punto arriva uno squalo che se lo pappa in uno sol boccone. Poi dato che quello squalo era abbastanza cattivo arriva un pescatore che riesce a uccidere lo squalo con una fioccina e così che il nostro gabbiano Giano può volare fuori libero e dato che il pescatore e il gabbiano si sono diventati amici fa un po' da pappagallo al pescatore. Chi sono gli autori? Sono Silvia Raffel e questo è Stefano Morosilato. Si, può essere l'acqua. Bene, allora avete ingrossato, inchiostrato un po', dato un po' di colore. È già pronto quasi per la vita. Dovete scegliere le voci adesso. Io faccio il gabbiano e quella che racconta un po' le frasi prive di dialogo. Un narrato. E quest'estero qua fa Salvatore e lo squalo. Devi dire qualcosa se Salvatore non dice niente. No, ha perso la parola e gliela faccio tornare io, forse. Ma è lo squalo? Hai un dente di squalo lì a pizzicare? Eh infatti sì, Salvatore ne ha lasciato uno a parte, allora ho preso la carcassa e ho staccato il dente. È un buon amuletto, devo dire. Come si sceglie l'altro? No, aspetta. Chi? Chi? Manca uno. Sì, può essere l'alberatorio di arte e filmica. Bene. Siamo qui al laboratorio di arte e filmica. Siamo qui al laboratorio di arte e filmica dove dopo aver studiato, passato, fatto eccetera cose sull'inquadratura, sui video, varie cose. Il prof ci ha detto di fare una storia inventata. Questa storia è fatta io, che sono Maiko Bertolini, Stefani e Emanuele Marchi, che parla di un ragazzo che un giorno va a fare con lo skateboard le acrobassie per farsi figo con le ragazze. E insomma, questo qui fa un capitombolo e si spacca il cranio, la colonna vertebrale, il cranio e tutto. Poi passa che lui si sta insegnando che incontra un cavaliere che lo salva. E mentre il cavaliere lo sta curando, il ragazzo, sempre insegnando, si trasforma in un drago. E intanto il cavaliere, dopo una lunga battaglia, uccide il drago. Poi si scopre che questo ragazzo stava facendo solo un sogno. E poi si è svegliato e si era accorto di tutto. Un sogno nel suo letto oppure un sogno quando è caduto? Un sogno nel suo letto. Ah, nel suo letto? No, praticamente, lui stava sognando a letto, però il capitombolo che si è insegnato, che si è spagato il cranio, è quando è caduto giù dal letto. E la storia è continuata. E allora, i personaggi hanno una voce o c'è un oratore? Cioè, bisogna che gli diamo... State lavorando sui personaggi? Sì. In una bella giornata di sole, Gianni e Gabbiano sfidato, quella avvenizia nel cielo. Oh, oh! Ma a un certo punto, arriva uno stuare. Buonasera! Che lo addentrò. Oh, scusa, un paio d'altro. Dovevi dire la mano così? Beh, no, se lo rifacciamo. Dei rifare, via! Ciao, buonasera! Che lo addentrò. Un marinaio lo ride. E a quel punto, lanciò l'ampione. Uess! Ciao! Uess! Vieni qua, vieni già, buonasera! Uccise lo squadro, mi disse. Ora vieni qua con il mio amore di uccisi. E lì, il gabbiano... Cosa? 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 Oh, oh! Cosa? Mi ricorda, scienze! Cosa? Cosa? E te? Ma scrivi decente! Fine! Cosa? 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 Vieni qua, che te ciafo. Uccise lo squadro, mi disse. Ora vieni qua con il mio amore di uccisi. E lì, il gabbiano rispose. Oh, oh! Fine! Balletto promozionale! Oh, oh! Ma a un certo punto, arrivò uno squadro. Buonasera! E non so come... Ma tu riprendi lui o riprendi i disegni? I disegni? Un marinaio lo vive. A quel punto lanciò l'arpione. Vieni qua, che te ciafo. Uccise lo squadro e gli disse. Ora vieni qua con il mio amore di uccisi. E il gabbiano rispose. Oh, oh! Fine. In una bella giornata di soli, Gianni, che viene sfidato, volava felice nel cielo. In una bella giornata di sole, Gianni, il gabbiano sfidato, volava felice nel cielo. Oh, oh! Ma a un certo punto, arrivò uno squadro. Buonasera! Oh! Che lo addentò. Un marinaio lo vive. E a quel punto, lanciò l'arpione. Uccise! Vieni qua, che te ciafo. Uccise lo squadro. E disse. Ora vieni qua con il mio amore di un cip-cip. Ed il gabbiano rispose. Oh, oh! Finish! E ora un balletto promozionale. Mi fa così, scusa. Ma cazzo qua! Mi fa così, scusa. Ma cazzo qua! Mi fa così, scusa. Mi fa così, scusa. Mi fa così, scusa. E non ci siamo noi. No, scusa. Lo squadro è molto da tutti. Lui si accorse che il gabbiano voleva andare a prendere qualche picciolino. Quindi ne approfittò. E pensò. Ha, ha, ha. Un dolce pranzetto è più amato che aspetta solo me. Gigi, che non si accorse di niente, svolazzava sopra un dolce pesce che si avvicinò. E... Giano. Ma questo non fu il suo verso. Ma quello dello squalo. Gigi non capiva. Poi... Quando il marinaio aprì la pancia, vide il gabbiano e lui disse. Bene male! La sua pancia è piena di schifezze! Non la distevo più! Il marinaio disse. Non c'è più. Però, lo squalo disse la sua ultima parola, prima di essere morto del tutto. Per te andrò e mi vendicherò. Pena! 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 Pena!